Fabbriche sempre più intelligenti, informatizzate, interconnesse e automatizzate, in grado di ottimizzare i processi produttivi. Questa è l'industria 4.0, questa è MaxPay, la fiera internazionale delle tecnologie per l'innovazione. Tenutasi a Parma dal 17 al 19 marzo, l'evento, giunto alla sua quindicesima edizione, ha interessato ben 1600 espositori che hanno messo in mostra in dieci saloni tematici le soluzioni e i processi che in un futuro sempre più vicino ci porteranno sulla via della fabbrica digitale. La Big Kaiser Europa oggi è presente dal 1 gennaio 2016 direttamente sul mercato italiano. Noi la chiamiamo la tecnologia chilometro zero, cosa vuol dire che i nostri prodotti sono oggi disponibili dal nostro sito produttivo in Svizzera al nostro magazzino all'utilizzatore finale. Quindi quello che si usa molto dire il chilometro zero non lo abbiamo applicato alla tecnologia. Stessa qualità, un servizio migliore, quindi consegna entro 48 ore in tutta Italia a un prezzo più attrattivo. Quindi stiamo supportando il mercato italiano che per noi non è mai stato un mercato molto importante a livello di cifre, ma molto importante a livello di prestigio. Quindi è il secondo mercato per importanza in Europa e vogliamo veramente avere successo. Questo è solo l'inizio dei primi investimenti già pianificati per i prossimi anni. Abbiamo veramente voglia di portare il nostro nome Big Kaiser sulla bocca di tutti oggi nel mercato italiano e far apprezzare la nostra qualità anche a chi fino ad oggi pensava che eravamo intoccabili. Oggi siamo toccabili, siamo disponibili e siamo disponibili soprattutto a una collaborazione a lungo termine con i nostri clienti italiani e i nuovi clienti italiani. Abbiamo comunicato questa novità pochi giorni fa e da due giorni qui in fiera non abbiamo il tempo per andare a pranzare. Abbiamo continuamente visite che chiedono di avere informazioni, che chiedono chiaramente ovviamente di questo cambiamento che abbiamo deciso di operare nel mercato italiano. Molti rivenditori, molti clienti finali, utilizzatori che vengono a chiedere le spiegazioni soprattutto per quanto concerne l'aspetto logistico e quindi sono tutti molto 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 contenti di sapere che finalmente possono verificare loro stessi nel nostro sito la disponibilità di materiale e che quel materiale lo possono avere in 48 ore.